Io mi sento malissimo perché io 24 anni a dietro ho perso un figlio in mare, al lavoro come lavorava mio figlio Pietro e non voglio perdere questo, aiutateci a più presto possibile, voglio a mio figlio tutti a casa. Dopo 11 lunghi giorni certamente non si sta più bene, non si è più sereno, quindi noi fino adesso abbiamo avuto la vicinanza delle forze diplomatiche, dell'unità di crisi che quotidianamente ci chiama e ci dice che gli equipaggi stanno bene, perché ci sono tutte cose a posto. Abbiamo bisogno di sentire la sua voce e si stanno bene, perché siamo qua un pochino tutti i giorni, vogliamo una notizia più presto possibile, fate qualche cosa, che vi ringraziamo, portateli subito a casa, tutti quanti. Purtroppo siamo costretti ad andare a Roma e quindi fare un atto di protesta, proprio per far sì che avvenga il rilascio degli equipaggi e le motopesca. Chiedo al capo di farà per mettere in liberazione al più presto possibile le barche e tutti i marinai, che alla fine non hanno chiesto, non avevano l'intenzione di fare del male all'alibio o a rubare, anzi loro sono entrati per lavorare. Grazie a tutti.